Salve a tutti, io sono Spina e bentornati su Unpacking. Innanzitutto voglio ringraziarvi tantissimo per l'affetto che avete dato al primo episodio e sono felicissima che sia piaciuto tanto anche a voi questo gioco perché è veramente uno dei miei preferiti e quindi sono davvero felice di portare un secondo episodio anche per continuare la storia di questa nostra protagonista. Eravamo arrivati infatti dopo aver visto la sua prima cameretta di quando si è spostata a dormire in cameretta da sola a quando si è trasferita per andare probabilmente all'università nel suo primo appartamento da sola ma adesso abbiamo una nuova avventura che è questa qui ed è mamma mia io già non vedo l'ora siamo nel 2007 quindi tre anni dopo e già vediamo delle cose un po' particolari perché vediamo una casa che è già molto arredata ci sono già molte cose e vediamo anche tante stanze oltretutto qui abbiamo anche la mappa della casa e insomma di stanze come vediamo ci sono anche altre due camere da letto questo ci fa probabilmente dedurre del fatto che lei si è spostata in un appartamento con delle coinquiline dei coinquilini magari che non lavano i biatti o l'altro però va bene ci sta di brutto e qui abbiamo tutte le varie stanze abbiamo il bagno abbiamo la camera da letto perché lei ha la camera da letto sua poi abbiamo la sala da pranzo e già iniziamo un po' a capire che genere sono le sue coinquiline che persone sono le sue coinquiline qui vediamo ad esempio che c'è una macchina per cucire c'è un manichino per i vestiti quindi significa che magari oltretutto sembra essere un cosplay quindi probabilmente a queste persone piace creare dei costumi poi ci sono delle action figure insomma un po' come se fosse casa mia ma senza il fatto che cucio perché non sono capace però insomma siamo lì allora io direi di cominciare dal salotto perché ci sta apriamo la prima scatola e abbiamo qui un dvd ora come vedete qua ci hanno lasciato dei ripiani vuoti quindi noi mettiamo delle cosine nostre sui ripiani questi sono dei dvd qui abbiamo anche un action figure vedete eccola qui se vedete il giro ce ne sono altri tipo questa ovviamente noi non possiamo toccare le cose delle altre quindi non toccheremo niente mettiamo solamente i nostri dvd a posto qui abbiamo un bellissimo librino è un bellissimo librino questo librino va sicuramente in camera da letto quindi per il momento sembra essere un librino non ne sono sicurissimo lo mettiamo qua perché non sono sicura al 100% che sia un librino e qua che bello ora io non so se voi avete mai fatto un trasloco ma i traslochi hanno un piccolo difetto che la prima volta che li fai sei tutto organizzato tutto preciso tutto in ordine poi man mano più traslochi peggio è perché ti inizi un po' a scocciare e quindi tipo finiscono le scatole nelle stanze sbagliate un disastro infatti qua metti le cose nelle scatole che non c'entrano niente questo è un suo disegno molto bello oltretutto guarda com'è migliorata rispetto a prima cioè i disegni adesso sono sempre più belli e questa cosa è una cosa che mi piace tantissimo perché vedi oltre alla persona che cresce vedi anche la persona che magari migliora in quello che fa sviluppa le passioni è veramente molto bello mettiamo qua lo stereo in camera sua perché magari le piace ascoltare la musica e dicevo del trasloco che adesso non gliene frega più niente tipo nella stessa scatola c'erano dei dvd lo stereo c'era il pigiama per dire ma chi se ne frega mettiamo tutto insieme vai l'importante è che si cambia casa qui abbiamo una pentola no raga cioè questa volta però sto trasloco è stato tragico cioè ha messo di tutto a caso però va bene qui abbiamo la cucina come vedete ci hanno lasciato dello spazio e noi mettiamo la nostra pentola perché magari qualcuno di voi che è un po' più grande lo sa quando si va a vivere con altre persone di solito si cerca anche di contribuire alle cose che si hanno in casa quindi magari assi non ti preoccupare la pentola più grande la porto io no non ti preoccupare magari non lo so la carta igienica ci penso io e si cerca di convivere insieme di aiutarsi uno con l'altro che insomma si vive sotto lo stesso tetto qui abbiamo gioco da tavolo quindi vediamo che ha trovato anche delle persone che condividono le sue passioni per i giochi da tavolo oddio ma è bellissimo cioè guardate che bello allora io oltretutto vi vorrei far notare una cosa questo lo voglio mettere da un'altra parte perché allora innanzitutto se vedete questo personaggio è a cavallo io non posso posso zoomare posso zoomare allora questo personaggio è a cavallo di questa creatura che sembra essere questa a fare qui un pochettino nell'altra stanza che dovrebbe essere la sala da pranzo se vedete ecco qua non è vero è questo qui se vedete ci sono delle miniature di questi stessi personaggi quindi probabilmente non so se li conoscete esistono dei giochi di ruolo tipo dungeon and dragons queste cose qui dove ognuno fa il suo personaggio si vivono delle avventure si gioca con i dadi cose del genere quindi a quanto pare loro hanno anche questa passione in comune e lei ha fatto un disegno della loro squadra cioè del loro gruppo ed è carinissimo sta cosa mi piace veramente tantissimo allora qui abbiamo un controller ahhh questo mi sa che è tipo il gamecube una cosa del genere e lei ha portato giustamente perché qui abbiamo una console e lei ha portato anche la sua con anche i giochi io direi i giochi di metterli qua ne ha portati alcuni le mettiamo qua da parte ecco qua una bella copertona morbidosa ma ci piace la copertona la mettiamo qua perché qua ognuno c'ha le sue cosine noi contribuiamo con la copertona l'action figure la mettiamo qui ecco qua quindi abbiamo i dvd qua l'action figure non ci sta e i giochi qua e poi abbiamo la console cambiamo stanza ce ne andiamo in sala da pranzo perché ci sta ah che bello che bello dunque apriamo la prima scatola abbiamo oh il gattone che c'era anche nelle altre stanze che cosa carina e anche il fatto oh questo è nuovo il pollo lo mettiamo qua il fatto anche che oh c'è anche un pulcino il fatto che si porti anche i peluche magari quelli a cui è più affezionato è una cosa carinissima carinissima anche perché anche io l'ho fatto ho tipo io ho una passione smodata per i peluche ma alcuni giustamente li ho lasciati a casa mia a casa dei miei genitori perché non è che mi posso portare tutto l'armamentario ma ce ne sono alcuni a cui sono particolarmente affezionata che mi son voluta portare perché sai sono carini ci sei cresciuto magari hanno un ricordo bello e quindi te li porti anche lei ha fatto la stessa cosa ed è carinissimo qui abbiamo dei libri quindi dunque dunque allora secondo me dobbiamo fare così il pollettino lo mettiamo qua anzi no il pollettino lo mettiamo qui il gattone lo mettiamo qui così qua ci mettiamo il pulcinino e qua mettiamo i suoi libri ne abbiamo due quindi questa è una saga se non ricordo male nell'appartamento prima ce n'era uno solo quindi la saga sta anche andando avanti queste qui mi sa che sono libri del gioco di ruolo quindi li voglio mettere sempre qua mettiamo qui qua ne abbiamo un altro oh questa è la sua statuina quindi lei è dunque da come è fatta direi che è un bardo perché ha il mandolino il liuto in mano quindi è un bardo che cosa carina li mettiamo tutti vicini vicini così oh che cosa carina no bellissimo è carinissimo poi qui abbiamo dunque questo libro qua probabilmente è tipo un resoconto delle loro avventure quindi lo lasciamo sempre qui qui abbiamo un quadro oh che carino questo lo mettiamo in soggiorno cioè in salottino lo mettiamo qua è un panda rosso carino e lo mettiamo qua poi abbiamo la tour Eiffel dunque questo lo mettiamo in camera da letto e come avevamo visto anche nell'altro appartamento vediamo che lei continua a viaggiare continua ad andare in posti perché infatti abbiamo la tour Eiffel di Parigi abbiamo il bus di Londra quindi probabilmente adesso troviamo anche un altro è infatti la torre di Pisa quindi sta continuando anche a viaggiare è una cosa molto carina la mettiamo qua in camera perché ci sta magari sono cose un po' più personali che uno si vuole conservare un po' di più qui abbiamo dei librini li mettiamo qua abbiamo un altro librone lo mettiamo qua su qua lo mettiamo qui qua abbiamo allora questo secondo me invece è un manuale sono abbastanza sicura che questo sia un manuale magari per come disegnare paesaggi o cose del genere questo librino che sta lo mettiamo qua ci sta meglio qua sì 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 ci sta meglio qua questo questo io non è che mi convince tanto lì però lo lasciamo lì e abbiamo finito anche qua oltretutto questo sembra che va con questo io ce lo vorrei mettere ma non si può e vabbè pazienza cambiamo stanza ce ne andiamo in camera da letto dai lo so che state aspettando la camera da letto facciamo la camera da letto allora innanzitutto qui abbiamo un computer nuovo come vedete abbiamo un monitor un po' più eh recente un po' più tecnologico quindi più sottile e andiamo ad aprire qua sicuro c'è il computer ecco il computer è lo stesso e lo mettiamo qua sotto qui abbiamo oh i libricini degli sketch dei bozzettini qua abbiamo anche dei bozzettini che mette nella tavoletta qui nella lavagna di sughero questi sicuramente sono quaderni con i suoi bozzetti disegni e cose del genere questa può essere un'agenda qua c'è la scatola dei colori la mettiamo non ci sta la mettiamo qua sopra per il momento oh no raga allora questo tipo di colori sono bellissimi io ammiro tantissimo le persone che li sanno usare perché veramente secondo me è molto difficile anche i bigliettini da visita quindi si sta cercando di lavorare in maniera professionale i disegni che carino oh mio dio ok 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 qua abbiamo un altro album abbiamo la sveglia allora la sveglia cioè nel mio cervello la sveglia questa maglia la mettiamo qua sotto dovrebbe stare un po' più tipo vicino al letto però magari è un orologio e basta lo lasciamo lì qua abbiamo una cartolina di Firenze mi sembra di riconoscere poi abbiamo un'altra questa sembra sembra Venezia questa qua aspettate ecco questa è Firenze sicuro questa sembra essere Venezia quindi si è girata bene bene l'Italia mi fa piacere poi abbiamo un'altra e questa oh Roma questa è Roma cavolo questo è il Colosseo poi abbiamo oh è l'MP3 è sempre quello là c'è sempre lo mettiamo nel cassetto non si può forse si non si può lo mettiamo qua sopra e abbiamo una gruccia le mettiamo qui oltretutto vorrei mettere le ordinate ecco qua apriamo la prossima scatola qui abbiamo il dado questo è un di 20 è un dado che ha 20 facce bellino lo mettiamo qua perché si usa per giocare appunto ai giochi di ruolo da tavolo particolari considerate che a casa io e Lion ne abbiamo non so un'infinità veramente tantissima la tavoletta grafica ma è bellissima è bellissima la tavoletta grafica oh mio dio che cosa carina qui abbiamo il mouse no ragazzi ci si sta un po' intortando tutta la situazione qua nella camera perché è un po' stretta mettiamo il tappetino qui i bigliettini da visita li mettiamo qua ok qua abbiamo il mouse mamma mia almeno il mouse lo potrei prendere nuovo la tastiera sti colori non mi convince dove sono io ve lo dico ma va bene qua mettiamo la tastiera e quindi dobbiamo fare più in qua questo così così è più centrato mettiamo il portapenne qui questo lo possiamo mettere anche così oh così no un po' più avanti pena pena ok mi piace l'agenda perché se vi ricordate ogni volta lei ha un diario anche per segnare l'anno questo è questo è il diario segreto di quest'anno che io direi di mettere vorrei mettere sotto il cuscino però anche lì secondo me chi lo docca nessuno cioè è roba sua qui abbiamo un altro libro per i bozzetti qui abbiamo un altro libro questo di anatomia pure questo mi sa che è di anatomia questo forse è delle pose fisiche probabile poi abbiamo oh questo mi sembra tipo un gameboy advance una cosa del genere sempre una vecchia console e qua abbiamo i giochi mi sembra giusto li mettiamo qua sopra qui un altro questo probabilmente questo è un manuale per disegnare le pose questo per disegnare le mani eh sì vabbè raga cioè ma di che stiamo parlando qua ci sono manuali per ogni cosa qui abbiamo ah questo è per scrivere quindi evidentemente un'altra sua passione è quella di scrivere non solo di disegnare bello mi piace mi piace approvo tantissimo mettiamo qui bene bene mettilo bene ok un cappello un cappellino c'è una zucca sopra lo mettiamo qua ecco qui poi abbiamo oh la nostra passione signore e signori i calzini ci sono quelli neri e arancioni quelli con le fragoline quelli a scacchettini bianchi e neri oh questo è il nostro album delle foto il solito quello che ci portiamo sempre dietro che sta raccontando un po' la nostra storia questi secondo me li metto qua dietro qua così sì ok grazie anche l'agenda vorrei mettere qui grazie anche questo mettiamo qua qua sì qua ci può stare ok altri calzini iniziano ad essere calzini un po' più variegati questa cosa mi piace qui abbiamo le mutandine qua mettiamo rosa col fiocchettino qua abbiamo anche i reggiseni chiudi il cassetto mettiamo qua nero qui oh una scarpa una scarpa la mettiamo qui con qua tipo uno stivale con quale quale piede vabbè lo mettiamo qua tipo un'altra scarpa ancora oh madonna un'altra scarpa ancora un'altra scarpa ancora allora quelli sono mocassini poi abbiamo gli stivali che io vorrei tipo oddio così gira lì ok no li ho messi al contrario io lo sapevo ecco quindi gira gira ce l'ho no raga oddio mio allora questo è difficile perché ok dai ogni tanto ci riesco ok ecco qua ah la soddissazione e queste scarpe messe un po' così ma qua ci stanno ma c'è spazio per le scarpe e facciamo così dai un po' a caso qui abbiamo dei pantaloni una gonna questa la appendiamo perché secondo me ci sta bene appesa questa allora sembra c'è tipo lo stesso simbolo magari è una divisa può essere una divisa qui abbiamo una maglietta un'altra maglietta con oltretutto il d20 sopra un'altra maglietta ancora la divisa la metto qui una giacca questa la appendiamo e togliamo poi abbiamo un poster allora facciamo così questo quadretto lo mettiamo qua il poster lo mettiamo qua che ci sta bene poi abbiamo un'altra gruccia e la mettiamo qui pantaloni li mettiamo qua altri jeans un frisbee sotto il letto sotto il letto cos'è queste scarpe? non non ne so non ne so che cosa so ste scarpe raga non ne so non sono esperta le metto qua non ne so assolutamente che so ste scarpe per arrampicata per trekking per sommozzatore non lo so non lo so qui abbiamo un reggiseno qua ne abbiamo un altro qua abbiamo altri calzini eh vedi allora la borsa eh oddio stavo per rompere tutto lo mettiamo qua non ci sta qua allora qui qui ah che bello poi abbiamo un'altra giacca di jeans la appendiamo qui un'altra maglia ancora quindi è di brutto una divisa questa qui mettiamo una maglietta un po' più elegante allora qui mi pare che c'aveva un'altra maglietta questa li mettiamo così questa è una camicia la mettiamo di qua eh no raga è una divisa probabilmente lavora tipo in un bar in una caffetteria cosa del genere questa la metto qui e questo è il pigiama un altro pigiama un altro pigiama un altro pigiama questa è una maglia frufru e la mettiamo qui il cestino va in bagno quindi lo mettiamo di qua e così no qua troppo attaccato qua ok mi piace mi piace poi abbiamo i pesi quindi si sta cercando anche di tenere in forma ci sta poi abbiamo oh il porsellino all'inizio mi ricordo che aveva il fiocco però adesso non ce l'ha più quindi probabilmente ha cambiato ha deciso questa cosa la appendiamo la appendiamo qua ecco qua e ha deciso che voleva cambiare probabilmente e ha deciso tipo di di renderlo un po' più abbordabile in ogni situazione un attestato magari la sua laurea che cosa carina qui abbiamo altre mutandine altre mutandine ancora calzini altre mutandine altri calzini mutandine una maglietta lo mettiamo qua ok questi sono i suoi disegni oddio allora possiamo mettere la divisa qua sotto con il cappello sopra e qua mettiamo tutte le sue cose tipo un po' di lavoro disegni cose qua mettiamo le mutandine un'altra gonna questa va appesa ecco qua e abbiamo finito ok ora le scarpette queste cose qua le metto qui perché io non ho ancora capito che sono ma proprio per niente l'ho capito le mettiamo qua la scatola dei colori a sto punto la mettiamo qua sopra qui chiudiamo e stiamo tranquilli ora sta scarpa la mettiamo qua facciamo così vai secondo me ci sta secondo me è tutto in ordine ci sta andiamo in bagno in bagno abbiamo una sola scatola quindi niente di che abbiamo uno spazzolino che mettiamo qui abbiamo il dentifricio che mettiamo sempre qua dentro il rasoio ah ci hanno lasciato un cassetto lo mettiamo qui taglia unghie la spazzola la questa è una trousse con tutti gli accessori qui abbiamo delle medicine qui abbiamo il deodorante ci hanno lasciato anche l'orripiano che carina il profumo poi abbiamo una bella gratta schiena per la doccia molto carina abbiamo lo shampoo il balsamo e no questo forse è il bagno non lo so poi abbiamo sempre qui gli assorbenti mettiamo qua anche questi questo che cavolo è un deodorante una lacca non ne ho più palida idea non lo so assolutamente però va bene vai andiamo un po' a braccio vediamo l'acqua yes e poi abbiamo come ultima stanza mi sa si no abbiamo la sala da pranzo no l'abbiamo fatta ci manca la cucina ok allora in cucina qui come vedete è carinissimo ma anche perché abbiamo tanti piatti diversi tante tazze diverse quindi è proprio palese che ognuno ha portato il suo tipo ecco qua lei ha portato la sua tazza abbiamo anche uno straccettino vediamo un po' ecco qua dove ci sono anche altri straccettini abbiamo un'altra tazza ancora la mettiamo qui un altro straccettino pela patate lo mettiamo qua la biscottiera la mettiamo qui che carino lo zucchero voglio mettere la biscottiera un po' più di qua e mettiamo lo zucchero qui olio per friggere lo mettiamo qui coltello lo mettiamo qua o di sotto qua poi abbiamo una calamita a forma di koala una stella un acquoricino no che carino ma è adorabile cioè stanno iniziando a fare una collezione di calamite piatti li mettiamo insieme agli altri ciotole ecco qua ognuno ognuna probabilmente ha portato tipo due piatti una cosa del genere qui portiamo tutti i piatti una bottiglia d'acqua la bottiglia d'acqua personale probabilmente direi di metterla qua qua ci potrebbe stare padella non vedo gancetti per padelle a quanto pare lei era un po' si usa sta cosa della padella col gancio non l'ho capito bene la mettiamo qua asciugamano e questo va in bagno va nel gancio suo quindi sono tre nella casa lei e altre due ok poi abbiamo la piastra che mettiamo secondo me lo spazio migliore è qua sopra qua poi abbiamo ah ecco qua l'antinsetti lo mettiamo qua sotto dove ci sono tutti i saponi cose del genere questo è il kit di pronto soccorso che mettiamo qua ecco qua qua ci sta di brutto lo mettiamo in bagno possiamo frugare anche nelle cose delle altre è una cosa carinissima un po' ficcanizziamo poi abbiamo un pacco di spugne che direi di mettere vabbè lo mettiamo qua e una spatolina mettiamo qui una cucchiarella di legno una tagliere che mettiamo sul piano ok allora abbiamo finito ma c'è qualcosa fuori posto in camera da letto cosa ho sbagliato cos'è che ho sbagliato questo non va qui e dove lo metto allora questo era mi pare che stava qua qua sotto era no che cosa carina dai no vabbè raga allora è bellissimo non avevo notato che c'erano qua sotto i libri allora qui innanzitutto oltretutto vediamo che qua è un gecko o un insetto stecco mi sa che è un insetto stecco no che cosa carina ok allora qui abbiamo questa stanza bellissima dove si vede proprio che ci sono le cose di tutte le ragazze unite ed è bellissimo abbiamo la cucina dove ognuno si è portata le sue cose e tipo collaborano insieme le padelle i piatti è veramente adorabile poi abbiamo il bagno stessa cosa tutte ognuno ha le sue cose tutto bello ordinato carino questa probabilmente è la mia stanza preferita perché c'è proprio tutta la passione che lega ognuna ed è veramente adorabile e poi abbiamo la camera da letto che è carinissima con tutte le sue cose dove vediamo che sta crescendo che ha tutte le sue cosine mi sto affezionando a questa ragazza oh mio dio è adorabile e però direi che con quest'ultima stanza la completiamo io direi di completare sempre nella camera da letto perché è da lì che siamo iniziate quindi lì qui finiamo ecco qua e ci dice che giornata non vedo l'ora di mettermi a letto perché ovviamente si è traslocato è stata una fatica e una nuova avventura sta per iniziare anche per lei io vi ringrazio tantissimo di aver visto il video fin qui fatemi sapere se volete continuare a vedere come procede la vita di questa ragazza fatemelo sapere con un emote di un porcellino di una scatola così faremo un nuovo episodio io vi ringrazio ancora tantissimo per aver visto il video fin qui e ci vediamo a un prossimo episodio ciao ciao